Diamo inizio a questo incontro per il quale ringrazio professor Tega e tutti gli accademici presenti e ringrazio soprattutto il professor Corbellini che peraltro è nostro socio accademico che ci ha voluto onorare della sua presenza. Il titolo della conferenza di oggi riprende quello di un bellissimo libro che è stato scritto recentemente proprio da Gilberto Corbellini nel paese della pseudoscienza. Ricordo a tutti per chi non lo sapesse che Gilberto Corbellini è ordinario di storia della medicina alla Sapienza, all'Università di Roma, è un noto editorialista del Domenicale, del Sole 24 Ore e da anni anche direttore scientifico del Festival della Scienza Medica. E la conferenza che ha ripreso il titolo del libro di Corbellini ha l'ambizione di dare avvio a un progetto educazionale che la classe di scienze fisiche, su proposta del professor Cocco e mia, ha deciso di sviluppare insieme a tutte le sezioni dell'Accademia che vorranno contribuire, di svilupparlo nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Un progetto a cui abbiamo il titolo, ha dato il titolo di Contro la pseudoscienza. Adesso vi spiegherò poi perché. Ciò che viene definito pseudoscienza è noto a tutti. Gli esempi sono sempre più numerosi e sempre più frequenti. Senza risalire ai tempi del Siero Bonifacio, che molti di noi ricordano, noi medici, al Gerovita, o al caso più recente della terapia di Bella, passando poi per la vicenda stamina, per non parlare dell'isteria che ha circondato gli OGM e i vaccini, purtroppo dobbiamo constatare che la pseudoscienza in Italia è in grado di dettare l'agenda del dibattito pubblico e soprattutto di fare danni. La pandemia ha poi fatto emergere in maniera drammatica questo problema della pseudoscienza, che fino a ieri restava almeno in parte sommerso nelle variabili culturali della società, libera di esprimere opinioni diverse. Problema della cui rilevanza sociale non era stata data, soprattutto in passato, la giusta rilevanza. È una pseudoscienza che però ha essenzialmente due facce. Una medaglia a due facce che si declini in due diversi atteggiamenti mentali. Il primo, più grossolano, costituito dalla credulità in teorie o pratiche che non hanno nessuna base scientifica. Il secondo aspetto, l'altra faccia della medaglia, che è più sottile, più sofisticato e forse anche più pericoloso, consiste nella sfiducia o meglio nella diffidenza nei riguardi delle affermazioni prodotte dalla ricerca scientifica. E questo non soltanto in campo medico, come è stato evidenziato dalla recente vicenda dei vaccini anti-covid. Si pensi per esempio alla problematica del cambiamento climatico, che in alcuni settori pseudoscientifici continua a essere negata. Le cause del dilagare della pseudoscienza sono molteplici e complesse. Una delle cause è sicuramente la diffusione della conoscenza o della pseudoconoscenza via web. È però evidente che la pseudoscienza è strettamente connessa con una ignoranza scientifica di base, ma soprattutto con le carenze cognitive di una non piccola parte della popolazione. Si va di bene, il fenomeno non interessa cittadini privi di istruzione, ma persone istruite o semi istruite, in possesso di molteplici nozioni e conoscenze, o meglio di pseudoconoscenze, certamente capaci di argomentare le loro ragioni, però prive delle capacità razionali di organizzare i dati e le informazioni per trarne delle conclusioni logiche. Le pseudoscienze, inoltre, sono sempre fondate su dogmi o ideologie che non possono essere messi in discussione a fronte di promesse pratiche o di spiegazioni grandiose, lavorano con teorie formulate in modo tale da non poter essere provate o smentite. Gli adepti delle pseudoscienze hanno una forma mente difficile da scalfire. Il problema però è quali strumenti abbiamo noi per contrastare questo fenomeno. Questo è il punto che vorremmo affrontare con questo nostro progetto in Accademia. Innumerevoli studi di psicologia cognitiva hanno dimostrato che dopo l'adolescenza qualunque intervento atto a correggere le carenze logiche e razionali che si sono instaurate negli anni precedenti è spesso destinato all'insuccesso. Ciò è in parte dovuto alle carenze dell'istruzione secondaria nei riguardi delle materie scientifiche. In queste materie i programmi scolastici prevedono l'apprendimento da parte dello studente di una serie di nozioni che purtroppo prescindono da qualunque conoscenza sul metodo scientifico e sperimentale, cioè sulle modalità attraverso le quali si è giunti alla dimostrazione delle verità che vengono enunciate, insegnate e apprese dagli studenti. Vari analisi dell'Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo e dell'Istruzione e Formazione, hanno dimostrato queste gravi carenze nella comprensione della metodologia scientifica, per non parlare anche dei più elementari concetti di statistica che mancano a coloro che affrontano l'esame di maturità. E mancano in gran parte degli studenti che escono dalla scuola media superiore e si accingono a intraprendere gli studi universitari. Carenze che condizioneranno sempre il loro modo di ragionare e di affrontare le sfide e le scelte della vita, alimentando il problema crescente della diffusione della pseudoscienza. Sul piano educazionale, allora, bisognerebbe insistere molto sul fatto che uno degli elementi fondamentali che distinguono la scienza dalla pseudoscienza è quello del metodo. Il metodo, fin dai tempi del positivismo, con Comte e compagni, si riteneva che il metodo fosse l'elemento chiave del sapere positivo, contraposto alla metafisica o a quella che veniva definita la dottrina. Che cos'è esattamente il metodo scientifico sperimentale rimane però ancora oggi, almeno per me, difficile da definire in poche parole e non mi azzarderò certo a farlo in questa occasione. Ciò di cui siamo consapevoli è che non esiste un unico metodo scientifico, ma tanti metodi diversi. A seconda delle discipline chimica, fisica, biologia, medicina eccetera. E la nostra intenzione sarebbe anche quella di analizzare questa diversità metodologica nelle varie discipline. C'è però un denominatore comune o un elemento comune. Questo elemento comune alla base delle diverse metodologie è che tutte le discipline considerano scientifico solo ciò che è verificabile tramite l'osservazione e l'esperimento, ma che può anche essere falsificato o smentito, sempre tramite l'osservazione e l'esperimento, e che comunque viene sottoposto allo scrutinio collettivo della comunità degli esperti o degli scienziati. Voglio citare solo un passo del bel testo di Gilberto Corbellini. Il metodo scientifico si fonda sullo scetticismo, sul pensiero razionale e su ipotesi falsificabili appunto, e sulla capacità di non farsi coinvolgere emotivamente dalle teorie, dai contesti o da legami affettivi. Sono tutte caratteristiche che richiedono sforzi che possono essere acquisite più efficacemente quando il cervello è plastico, vale a dire nella fase adolescenziale, come dicevamo prima, della maturazione epistemologica della persona, dai dodici ai ventidue anni. Questo è quello che scrivi tu, Gilberto. C'è un altro elemento fondamentale su cui insistere per stimolare la fiducia nella scienza e contrastare la pseudoscienza. Gli scienziati costituiscono una comunità nella quale coesistono posizioni critiche e idee diverse, il che porta a rimettere sempre in discussione ciò che è stato dimostrato, contrariamente a quanto avviene nelle pseudoscienze dove predominano fideismo e ideologia e le cui affermazioni rimangono immutabili nel tempo. L'esempio classico è quello dell'omeopatia, i cui criteri sono stati stabiliti ormai 200 anni fa e sono rimasti immutabili nel tempo. Anche in assenza di carenti conoscenze metodologiche e di deviazioni cognitive, però non dobbiamo aspettarci che il pubblico accetti sempre accriticamente le affermazioni degli scienziati, i quali devono imparare a fornire argomenti convincenti in modo chiaro e comprensibile. E pertanto dobbiamo insistere sul fatto che la fiducia dovrebbe essere riposta non sul singolo scienziato o sulla singola affermazione, ma sulla scienza nel suo complesso, come comunità che ha come fondamenti il metodo, la ricerca di evidenze, il consenso e soprattutto l'umiltà. Questa conferenza introduttiva disegna una mappa dei pregiudizi più nocivi appunto nel paese della pseudoscienza che fondano il nostro senso comune e usando un approccio naturalistico basato sulle scienze cognitive, sulle neuroscienze, sulle teorie evoluzionistiche, prova a mostrare in che modo la scienza sia distaccata dalla pseudoscienza. I due mondi erano confusi fino a poche centinaia di anni fa, rendendo possibile la complessa costruzione del tessuto morale e politico della democrazia liberale. Questo è un aspetto fondamentale dello scritto di Gilberto Corbellini, i riflessi che tutto questo può avere sul mondo politico e sulla nostra vita sociale. È la scienza, anche se non solo la scienza, che diffonde in modo corretto e senza pregiudizi, la parola del pregiudizio è fondamentale, senza pregiudizi il pensiero critico e così produce libertà, mentre tradizionalmente la pseudoscienza, basata su dogmi modificabili e su ideologie, prolifera nei regimi illiberali. Questo è quello che sostiene Gilberto e sul quale io sono d'accordo al cento per cento. Grazie per l'attenzione. Ringrazio il professor Bolondi e francamente potremmo chiudere qui, rispondo alle domande e ho fatto bella figura perché il professor Bolondi ha descritto in un modo perfetto, diciamo, come quelle che sono le mie posizioni. Però sono arrivato qua e quindi faccio queste chiacchierate. Intanto ringrazio l'Accademia, ringrazio il professor Ortega, ringrazio il professor Bolondi e tutti gli amici che sono qui. E intanto, diciamo, parte una premessa. Io non sono un sociologo, non sono neanche uno psicologo, non sono nemmeno uno scienziato. Faccio lo storico, come ha detto il professor Bolondi. La ragione per cui, ok, la ragione per cui, cioè, l'interesse però che ho maturato nel tempo per la storia è quello di studiare la storia di problemi che esistono nel presente. Cioè, mi annoio un po' a studiare delle storie passate dove le questioni del presente non hanno quasi alcuna rilevanza o non mi aiutano a capire di più. Io sono molto legato a questa definizione di fallacia astorica che è stata proposta non da una filosofa, non da una scienziata, anche se ha una laurea in lettere classiche, che è una neuroscienziata appunto che si chiama Nancy Anderson, che ha definito questo termine in un editoriale quando era direttore dell'American Journal of Psychiatry, una delle più importanti riviste scientifiche statunitensi, e che lei diceva che, lei parlava della psichiatria, della neurologia, diceva c'è una peculiare fallimento, diciamo, della capacità di cogliere alcuni elementi importanti che si trovano nel passato da parte di individui e di istituzioni. Io questa la chiamo fallacia storica e appunto la mancanza della capacità di vedere le cose in una loro profondità temporale, con tutta la ricchezza di associazioni, il senso di umiltà soprattutto, perché la storia secondo me ha questa grande e straordinaria caratteristica di istillare un po' di umiltà rispetto alla nostra capacità di capire sempre tutto, nel percepire appunto le cose in un contesto temporale più vasto. Quindi io parlerò di problemi che ha sintetizzato, riassunto molto efficacemente il professor Bolondi, però cercando di dargli una profondità storica in qualche modo, perché penso che forse si capiscono meglio discutere sempre in pseudoscienza del fatto che le cose non vanno bene, del cosa dovrebbe andare meglio, cosa si dovrebbe fare per andare meglio, eccetera, non è qualcosa che possiamo decidere solo sulla base di quel che sappiamo qui e ora, insomma, ma forse anche sulla base di alcune esperienze passate. Allora, il tema della mia chiacchierata sarà brevemente provare a capire se abitiamo nel paese della pseudoscienza, poi riflettere brevemente ancora sul fatto che grazie alla scienza molti nel mondo oggi vivono nel miglior momento, nel miglior momento e luogo da sempre, quindi che questo è il tempo migliore, non il migliore dei mondi possibili, come pensava un tizio di qualche secolo fa, ma questo è sicuramente il migliore dei mondi, degli ambienti, dei contesti in cui, diciamo, che noi abbiamo comunque avuto la possibilità di conoscere, di cui possiamo parlare. In che modo poi vedremo la scienza ha migliorato la condizione umana, è la mia ipotesi, chiamiamola naturalistica, poiché il sistema e la cultura della scienza richiedono di cambiare in parte il modo spontaneo in cui pensiamo. C'è un modo spontaneo in cui si viene al mondo, che ha un suo sviluppo autonomo e il contesto, quello che gli interventi che si fanno possono cambiarlo in maniera tale da rendere quel modo di pensare più adeguato alla vita e al funzionamento di una società complessa, che è anche quella che produce le condizioni migliori in cui ci si può trovare. E poi c'è infine la questione sollevata dal professor Bolondi, il pensiero critico. Praticamente voi ormai non trovate un testo da nessuna parte che non parli del pensiero critico. È un'idea comune che il pensiero critico serva, e anche io lo penso, ma come proverò a farvi vedere circolano idee a critiche su che cosa il pensiero critico è. Quindi dovremmo provare a metterci d'accordo su cosa intendiamo per il pensiero critico. Abitiamo nel paese della pseudoscienza? I casi sono già stati indicati dal professor Bolondi, ce ne sono tanti. L'Italia non è forse tanto il paese dove c'è più pseudoscienza, secondo me, ma è il paese dove stranamente, curiosamente, o forse non curiosamente, la pseudoscienza arriva più facilmente ai vertici delle elite governative e politiche. Quindi è sufficiente che quattro, diciamo, che schiamazzano un po' sulla sperimentazione animale riescono a ottenere in Italia che la legge sulla sperimentazione animale viene recepita, la legge, la direttiva europea viene recepita in modi completamente sbagliati e si penalizza a larga parte della ricerca scientifica. E c'è stato il caso Stamina che tutti quanti hanno conosciuto. Com'è possibile che in un paese avanzato tra i G8, vatte la pesca, il caso Stamina finisca in Parlamento? Ma in Francia, in Germania, nonostante in Germania consumino più omeopatia che non in Italia, in Germania non sarebbe mai arrivato in Parlamento. In Germania avevano un istituto che faceva di queste cose qua, della sera alla mattina l'hanno chiuso e buonanotte. Però i sociologi ci dicono che noi abbiamo fatto pace con la scienza e che quindi siamo più istruiti e ci sono gruppi di sociologi e sociologi che sulla base di alcune domande strettamente nozionistiche, gli elettroni sono più piccoli o più grossi degli atomi, gli antibiotici curano, non curano le malattie virali o robe di questo genere, che sono cose che ormai anche chi legge un rotocalco insomma lo sa. Il problema non è tanto avere, come diceva prima anche il professor Bolondi, una conoscenza nozionistica della scienza, ma avere il concetto di come funziona la scienza. Il professor Bolondi ha citato prima in Valsi, ma esistono delle indagini che l'organizzazione per lo sviluppo, per il commercio, lo sviluppo economico, sono studi che fa abbastanza annualmente. Io ho studiato questo ultimo nel 2019 e ci colloca, scusate, drammaticamente agli ultimi posti giusto sopra il Kazakistan per l'efficienza alfabetica, cioè che non vuol dire che non si sa leggere o scrivere, si sa leggere o scrivere, ma se c'è un testo complesso che contiene due periodi, che uno in contraddizione con l'altro, il 40% degli italiani non lo capisce, non è in grado di rendersene conto. Qualcosa di analogo avviene per l'alfabetizzazione numerica, ma questo è il dato che io trovo più interessante, perché noi parliamo sempre di medicina, qualche anno fa l'eurobarometro, i sociologi dell'eurobarometro hanno fatto un'indagine, come sempre, ne hanno fatto anche recentemente, poi hanno smesso di studiare questo tema, la percezione del metodo scientifico. La percezione del metodo scientifico si chiedeva ai cittadini europei di dire se, come si stabilisce un trattamento, l'efficacia di un trattamento, diciamo, per un farmaco. E davano quattro possibilità, che erano quattro oscele diverse, di cui quella giusta era la tre. Cioè che si prende un gruppo placebo, si prende un gruppo colossida, poi si fanno i conti, si va a vedere quale funziona. Quindi il trial clinico, la sperimentazione clinica, la cosa di cui parliamo tutti i giorni dal caso di Bella in poi, più o meno. Bene, qui siamo vicini al caso di Bella, per questo del 2001, l'Italia si trova qui, ok? Se voi guardate la Finlandia al 60%, la Svezia ne ha il 70% di risposte corrette, l'Olanda al 65% di risposte corrette, la Danimarca al 63% di risposte corrette. Se quelli che hanno risposto a questo test rispondevano per caso, i risultati non cambiavano, perché sono quattro possibilità tirate a caso, sono esattamente il 25%. Infatti, secondo me, è meno del 25% che in Italia sa come si stabilisce l'efficacia di un farmaco o sa che cos'è un trial clinico. Tra l'altro, io insegno a medicina, a volte gli studenti al terzo anno, se fai la domanda cos'è un trial clinico, circa la metà rimane un po' incerta. Però questo è un altro problema. Quindi c'è effettivamente, a mio parere, un problema di comprensione di alcuni aspetti fondamentali del metodo scientifico. Io una volta ho scritto una cosa, che qualcuno si è anche arrabbiato, io gli ho detto, ma scusate, si fanno tanti manifesti per l'insegnamento della storia e nessuno fa un manifesto per l'insegnamento della statistica alle scuole superiori, ai licei. Ma insegniamo un po' di statistica ai licei, per la miseria insomma, invece che la si insegna solo se c'è qualche professore di matematica, di buona volontà che la insegna, altrimenti si fa teoria della probabilità. E che ce ne facciamo di teoria della probabilità? Per carità è fondamentale, come la trigonometria. Sono tutte cose fondamentali, ma ci sono delle cose oggi senza le quali, come la statistica, senza le quali non si capisce bene come si prendono le decisioni in una società complessa e soprattutto se chi prende le decisioni sta usando la procedura giusta o ci sta raccontando qualche balla. Obama, prima di andarsene dalla presidenza, ha rilasciato questa bellissima intervista su Wired, che infatti questo io cito lui prima, no? Questo è il tempo migliore in cui, che merita diciamo di essere vissuto in qualche modo e che cosa lo rende il tempo migliore? La scienza, perché noi, diciamo, applichiamo la scienza a tutte le sfide che ci, che affrontiamo e così risolviamo a tutta una serie di problemi che lui, che lui evidenzia. Qualche anno fa ho pubblicato questo libretto e questo libretto, che era una prima versione di una ricerca, io quando ho finito, sono diventato professore in storia di medicina, quindi ho fatto tutte le cose che devo fare come storia di medicina, poi ho fatto avere la possibilità, fortunatamente, di occuparmi anche di altre cose altrettanto divertenti, come per esempio, qual è stato il ruolo della scienza nella costruzione delle società aperte, che tanto, diciamo, noi apprezziamo ogni giorno? Beh, io penso, e questo libro ha sostenuto, che la scienza, l'insegnamento della scienza e il pensiero scientifico hanno cablato il cervello umano, il cervello dei cittadini occidentali, grosso modo, in larga parte, e lo hanno cablato in modo da consentire il funzionamento del libero mercato, un'efficienza tecnologica e il funzionamento dello Stato di diritto. E tutto questo poi ha portato, attraverso la società aperte, a più ricchezza, più democrazia, più salute, più libertà, più intelligenza, questi più e questi meno, io non è che me li sono inventati. Voi andate su Our World in Data, che è il sito con la più ricca fonte statistica controllata che esiste, e voi trovate che in effetti c'è stato un miglioramento di tutte queste cose qua. E ci sono anche dei personaggi, che adesso vi risparmio perché altrimenti facciamo domani, ma ci sono anche dei momenti chiave in cui, insomma, abbiamo visto la nascita di nuovi modi di pensare, di nuove organizzazioni come gli scienziati che si strutturano in un'accademia e all'interno dell'accademia sviluppano comportamenti e modi di pensare che sono innovative e che piano piano diventano talmente efficaci che anche i sistemi di potere li reclutano e poi all'interno di questi sistemi di potere cambiano anche il modo di far funzionare le società. Poi è venuto questo libro, che è stato citato prima. La caratteristica di questo libro è che a un certo punto mi sono domandato invece un'altra cosa, ma qual è stato effettivamente e concretamente l'azione sul piano del funzionamento, della mente e del ragionamento che ha esercitato la scienza? Beh, la scienza allora ha esercitato una serie di azioni consentendo il controllo dei bias cognitivi, degli impulsi emotivi, della capacità di pensare controfattualmente, ha prodotto intelligenza e razionalità, simpatia e compassione, miglioramento morale, eccetera, eccetera, e quindi è questo che poi ha dato luogo alle società aperte, questo è il processo che effettivamente ha dato luogo alle società aperte. Quindi questo è il risultato, cioè lì sono 300 pagine, non ve le posso riassumere tutte quante in due minuti, però immagino che tutti voi sappiate che uno dei più importanti sviluppi scientifici del Novecento è stata questa roba qua, è stata la scoperta della razionalità limitata. Herbert Simon alla fine degli anni Sessanta capisce chiaramente che il modo in cui noi prendiamo le decisioni non è mai il modo ottimale, ma che noi abbiamo delle limitazioni cognitive, non abbiamo mai tutte le informazioni a disposizione, abbiamo fretta a decidere, questo porta, diciamo, a fare delle scelte che sono limitate, sono vincolate e usiamo prevalentemente per decidere quelle che ci soddisfano di più. E ci sono esempi, caterve di esempi, insomma, poi Kahn e Matvarski e Gigerenz li hanno declinati, questi problemi in modi diversi, questi due hanno anche avuto premi Nobel, Simon e Kahneman per l'economia, ma effettivamente questa è una rivoluzione scientifica, culturale che è avvenuta. Dopo questa rivoluzione, i psicologi cognitivi ci hanno dato la caccia ai bias cognitivi. Ne sono censiti 200 circa, ok? Quindi noi nel nostro cervello abbiamo degli schemi, dei processi decisionali di cui non ci rendiamo minimamente conto, ma che quando vogliamo ricordare qualcosa, quando dobbiamo agire velocemente, quando cerchiamo il significato di qualche cosa o quando c'è un overload di informazione, noi applichiamo tutta una serie di schemi che stanno qua dentro e che sono censiti precisamente, e non sono censiti sul bollettino parrocchiale, sono censiti su riviste con peer review e con tanto di sperimentazione. Quindi questo ci dice una cosa non secondaria, cioè che noi veniamo al mondo incorporando non il metodo scientifico ma quello pseudoscientifico, che quindi noi usiamo normalmente questo tipo di schema di ragionamento per cercare di avere a che fare con fatti incerti che non sono controllabili, abbiamo tutta una serie di meccanismi retorici per difendere quello in cui crediamo, presentiamo argomenti o tesi molto frequentemente che nessuno è in grado di conflutare, perché se nessuno è in grado di conflutare allora siamo convinti che siano veri, eccetera, eccetera, quindi lavoriamo in una serie di modalità, diciamo, che sono tipiche della pseudoscienza. pseudoscienza. Kahneman ha scritto un libro bellissimo, è tradotto anche in italiano, e dice che esistono due sistemi, il sistema veloce, quello basato su tutti quei bias che avete visto prima, quei 200 bias che avete visto prima, è quasi completamente inconscio, va in automatico, non dobbiamo fare nessuno sforzo per decidere, non c'è alcuna autoconsapevolezza o controllo, crediamo ciecamente in quello che vediamo, non lo mettiamo mai in discussione, il suo ruolo è valutare la situazione e andare immediatamente, diciamo, a proporre, diciamo, degli aggiornamenti. Il sistema 2, che è equiparabile, lo assumiamo quando noi pensiamo essere la scienza, invece è un sistema che funziona in modo consapevole, richiede sforzo, energia, devo studiare la matematica, devo studiare i teori di matematica, devo fare centinaia di esercizi per impadronirmi di un certo argomento, per impadronirmi di una, che ne so, della seconda legge della termodinamica in modo preciso. I processi mentali sono controllati e fondamentalmente cerca la coerenza e la logica in quello che si dice e si basa sullo scetticismo. E il suo ruolo è quello di andare alla ricerca di informazioni nuove o che mancano e del prendere delle decisioni. questo potrebbe accontentarci e in effetti un po' su questa cosa qua ci sono dei pedagoghi, questo David Geary è un professore di matematica, ma che studia anche l'insegnamento della matematica, che ha messo punto, ha pubblicato diversi articoli e la sua teoria generale è che, lui ha un approccio evoluzionistico il problema, la sua teoria generale è che quando i nostri antenati vivevano in ambienti largamente invarianti, cioè che variavano poco, usavano e la selezione naturale premiava una serie di euristiche che erano veloci, frugali, semplici e basate su meccanismi impliciti. Via via che con la transizione agricola e poi industriale, eccetera, noi entriamo in un mondo che è caratterizzato da pattern di informazione sempre più cangianti, non solo informazioni con le esperienze, ma anche sociali, i nostri antenati che c'erano raccorditori erano in bande di centocinquanta individui, noi oggi viviamo in città di 30-40 milioni di persone, insomma. Allora, diciamo, sono premiati, ma non sono premiati perché esistono, perché la selezione naturale non agisce, ma sono premiati una serie di disposizioni psicologiche che consentono, diciamo, di risolvere i problemi in modo controllato, lentamente, applicando lo sforzo, in modo complesso, con meccanismi inconscii, eccetera. E questo richiede che cosa? La scuola. Richiede di andare a scuola e imparare certe cose molto precise e che sono cambiate anche con il tempo, poi forse qualcosa vedremo. Tutti questi cambiamenti che sono avvenuti nel corso, anche nel mondo occidentale, nel corso degli ultimi decenni, eccetera, quando le psicologi cognitivi vanno a testare quanto, diciamo, sono diffuse certe capacità critiche, cioè sottopongo un una serie di test, come il test di Watson, che calcola e baluta il bias di conferma, o come il problema, diciamo, della fallacia della disgiunzione, il test della riflessione cognitiva, il test della fallacia del testo di base, troviamo che una minoranza di persone, comunque, anche persone istruite, anche professori di ingegneria, di chimico, cose di questo genere, possono non risolvere questi test. Quindi richiedono, diciamo, c'è una, ci sono dei problemi, ci sono degli elementi dell'apprendimento che sono i quali è necessario insistere. Infatti, un altro psicologo cognitivo dell'Università di Ontario, che si chiama Kate Stanovic, ha detto, detto, guardate che il modello della elaborazione di tipo 2, di tipo 1 di Kahneman, è incompleto, perché se noi in tutti questi test che abbiamo, ed è lui che ha fatto queste meta-analisi, non introduciamo l'elemento di una mente riflessiva, cioè di una mente che interrompe la risposta immediata, il dare una risposta immediata quando ti presentano un test, ovvero seguire l'intuizione, se non si blocca l'intuizione, anche la mente algoritmica più allenata, anche le persone più intelligenti, possono dire, fare cose stupide. E infatti lui ha anche cognato il termine disrazionalità. Lo ha studiato efficacemente e ha detto, guardate che appunto la disrazionalità è l'incapacità di pensare e comportarsi razionalmente, malgrado una adeguata intelligenza. Che so, venti anni fa fu famoso il fatto che in una, in una associazione canadese che raccoglieva tutti quelli che avevano l'ultimo quinto di percentile di quotiente intellettivo, quindi più intelligenti che stavano, che si scrivevano, facevano i test, si chiama Mesa Club, lì dentro c'erano 35% che credeva all'astrologia, 40% che credeva alla vita extraterrestre, eccetera. Si può essere intelligentissimi e un esempio tipico che fa Stenovic è lo schema Ponzi. Pensate a Madoff che ha truffato 65 miliardi e a New York nella creme, della creme, delle persone più intelligenti e più colte, gli hanno dato i soldi e gli hanno creduto. Ok? Ma andiamo anche sui premi Nobel. Insomma, i premi Nobel, qui ci sono sei premi Nobel, ve ne potevo citare altri. Questo l'abbiamo visto recentemente, le fesserie che ha detto sulla questione del Covid. Ma questo è un grandissimo, è stato un grandissimo fisiologo, Charlie Shea, che credeva alla telepatia. I coniugi Curie facevano gli esperimenti sulla telepatia. Wolfgang Pauli, pure lui. Vabbè, lasciamo stare quello che ha scoperto la PCR. Quindi dobbiamo stare attenti. Noi abbiamo avuto anche la vicenda Covid. Sulla vicenda Covid, i nostri scienziati, persone bravissime nel loro campo. Quando andavano in televisione, parlavano di tutto e dicevano delle cose che spesso erano imbarazzanti, per uno così anche di cultura media, no? Hanno litigato su tutto, praticamente. Quindi non ci si riesce la, diciamo, la razionalità. Dice che Stenovic consiste fondamentalmente nel nel sapersi trattenere, nel sapersi controllare, evitare che quello che si spera che sia vero influenzi quello che si dice. Questa è una ricerca formidabile che fu fatta da Luria, il neurofisiologo sovietico a quel tempo, sotto l'indicazione di Vygotsky, non fu pubblicata fino al 1970 circa, perché il regime comunista, soprattutto Stalin, insomma, e poi anche cosa, anche l'Issenco, a un certo punto volevano così mettere un freno a Luria. E questa ricerca dimostra che loro hanno fatto su alcune popolazioni che vivevano nell'Asia centrale, dove hanno dimostrato che queste popolazioni erano incapaci di ragionare astrattamente, mancavano completamente di pensiero astratto, erano incapaci quindi di interagire con loro, con una serie di test, insomma, se uno gli chiedeva al Polo Nord tutti gli orsi sono bianchi, pensa, diciamo, che sei al Polo Nord, vedi un orso di che colore sarà? Ma io non sono mai stato al Polo Nord. Questa è la risposta. Ora, questi che in un contesto diverso, cioè diventare la cultura e tutto quanto, cioè qui c'era tutta una teoria, diciamo, dello sviluppo cognitivo, di tipo culturale, però questo, diciamo, è una caratteristica che ha, o poteva avere, il pensiero, che ha il pensiero umano in alcune condizioni. Se voi pensate a, insomma, la fine del mondo di De Martino, descrive delle situazioni che, di Ernesto De Martino, descrive delle situazioni nel sud dell'Italia che sono praticamente simili a queste. Negli anni 70 questo psicologo dell'intelligenza scopre un fenomeno che ha avuto il nome di effetto Flynn, cioè scopre che in tutto il mondo, a partire grosso modo dagli anni 30, o meglio, nel mondo occidentale dagli anni 30 e in altri paesi successivamente, c'è un aumento del quoziente intellettivo di tre punti ogni dieci anni. Questo aumento del quoziente intellettivo riguarda soprattutto dei test che sono di questo tipo, delle matrici di Raben, cioè test che implicano appunto la capacità di astrarre, di configurarsi un pattern e di collegare il pattern con un quesito cui si viene sottoposto. Inoltre, diciamo, l'aumento ha riguardato soprattutto la intelligenza fluida, piuttosto che quella cristallizzata, cioè l'intelligenza che si sposta e si muove tra domini diversi. E c'è stata una grande discussione, diciamo, su quello che poteva essere la ragione per questo aumento del quoziente intellettivo e Flynn ha detto, sono due le ragioni dell'aumento del quoziente intellettivo. Uno, che le famiglie nel mondo occidentale fanno meno bambini, i genitori hanno più tempo a dedicare ai bambini, lavorano anche di meno, parlano di più ai bambini, li correggono e correggendoli piano piano, gli consentono di sviluppare un ragionamento sempre più sofisticato. Primo punto. Secondo punto, la scienza, l'insegnamento della scienza. Tra un po' vi farò vedere che la scienza ha cominciato ad essere insegnata nelle scuole, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, alla fine dell'Ottocento e del primo novecento, la scienza, non certe tecniche o competenze tecniche, e la diffusione di una scienza, tra l'altro, non nozionistica, ma che rendeva l'apprendimento più articolato, avrebbe aumentato anche quella, il quoziente intellettivo. Nel 2012 Flynn ha pubblicato questo libro, che è stato tradotto anche in italiano, e questi sono, secondo lui, gli elementi costitutivi del pensiero critico nelle società moderne. Cioè lui ragiona e dice, attenzione perché se noi guardiamo quali sono le esigenze che abbiamo noi oggi di fronte al flusso di informazione, di elaborarle criticamente, noi abbiamo bisogno di sapere cos'è l'effetto placebo, cos'è la fallaccia relativista, cos'è il sillogismo pratico, cos'è una proporzione, cos'è l'effetto carisma, cos'è un campione casuale, eccetera, eccetera. E lui, tra l'altro, la cosa interessante è che, avendo una grossa rete, queste cose qua le applicate a dei corsi universitari, a dei corsi ad Harvard e in alcune altre università americane. E la cosa che è venuta fuori, interessante, è che gli studenti che rispondevano meglio, o meglio che raggiungevano, diciamo, livelli di competenza secondo i criteri che avevano dato lui, erano quelli delle facoltà di economia. Il pensiero critico, veniamo al pensiero critico e poi ci chiudiamo. La questione del pensiero critico è forse posta per la prima volta da questo sociologo americano che si chiamava William Graham Summer. Summer era un personaggio interessante, era un gran liberale, difendeva molto, diciamo, era anti... come si chiama? Vabbè, difendeva molto l'economia di libero mercato, eccetera, e in uno studio sulle caratteristiche, le dimensioni, cioè le caratteristiche della società americana, dice, le scuole stanno facendo delle, stanno formando delle persone secondo schemi di tipo ortodosso, praticamente le fanno tutte uguali, come se, diciamo, le passassero attraverso un tornio, e in realtà, diciamo, le opinioni popolari che vengono trasmesse o che circolano contengono largamente delle fallace, delle mezze verità, eccetera. È necessaria una facoltà critica che può essere prodotta soltanto dall'educazione, dalla formazione, e, diciamo, appunto, e che è un abito, un potere, un potere della mente, e che è quella, diciamo, che può dare un benessere sia all'uomo che alla donna che dovrebbero essere formati in questa chiave. Quindi, se noi avessimo la capacità di dare tutte queste caratteristiche, educare a questa facoltà critica, potremmo fare di buoni cittadini, eccetera, eccetera. In realtà, lui è molto sensibile a un dibattito che è in corso in quegli anni. Nel mille, alla fine, diciamo, degli anni settanta, in Gran Bretagna, questo signore, Thomas Huxley, noto anche come il mastino di Darwin, grande, diciamo, positivista, aveva una visione naturalistica su molte cose, dice che l'insegnamento scolastico fa schifo, letteralmente schifo. Non si formano, o si insegna il greco che non serve a niente, o si insegna a usare, a fare gli artigiani che non serve altrettanto a niente, e quindi fa una battaglia, e nel settanta si apre, diciamo, uno school board, un board, diciamo, sulla scuola a Londra, e progressivamente si cominciano a costruire laboratori scientifici, a cambiare regolamenti nella scuola secondaria, a introdurre nel curriculum scientifico la chimica, anche se ancora non è richiesta, la comprensione, ma solo la memorizzazione di fatti. Qualcosa di analogo avviene negli Stati Uniti, quando tra il 92 e il 93 viene costituito questo Committee of Ten, il Comitato dei Dieci, che riscrive completamente l'istruzione primaria in quel paese, e introduce, diciamo, prima di tutto, dice che non c'è distinzione tra un'istruzione che abbia lo scopo di mandare al college e un'istruzione che serva solo a preparare la vita. Tutte e due hanno bisogno degli stessi strumenti e delle stesse nozioni, e quindi, diciamo, si devono introdurre anche la storia, la matematica, le scienze in tutti quanti i curriculum. Questo è un processo che inizia in quel momento, e alcuni studi che sono stati fatti fanno vedere che via via, che aumentano gli anni di scolarizzazione, aumentano anche i risultati, le prestazioni nei diversi test cognitivi. E questi miglioramenti sono stati anche messi in relazione con i cambiamenti nei testi scolastici dei tipi di problemi che vengono proposti, nelle modalità di concettualizzare una determinata tematica, nel contenuto del ragionamento, eccetera. Quindi cambia, migliora, piano piano, c'è una progressiva, diciamo, adeguamento, o comunque sia, diciamo, sviluppo di un ragionamento sempre più complesso che viene insegnato nelle scuole. Il pensiero critico, è definito in modo chiaro per la prima volta da Dewey, è, diciamo, la considerazione attiva, persistente, attenta, di qualsiasi credenza o supposta forma di conoscenza alla luce, diciamo, dei fondamenti che la supportano e delle ulteriori conclusioni a cui essa tende. Dewey è stato uno dei più importanti filosofi americani del Novecento, non so quanti ancora se lo ricordano oggi, era considerato, era chiamato, è definito anche il filosofo della democrazia, ed è stato anche quello che ha influenzato maggiormente lo sviluppo della pedagogia negli Stati Uniti ed è grazie a Dewey se negli anni successivi a questo, qui siamo nel 1910, negli anni successivi a questo, i curricoli scolastici aumentano progressivamente di contenuti di scienza e il tema del pensiero critico diventa sempre più importante. Esistono varie studi sul pensiero critico, questo è forse l'ultimo pubblicato la Stanford Encyclopedia of Philosophy che è una rassegna impressionante della letteratura e che fa vedere che il pensiero critico è una cosa molto complicata. Da chi l'ha studiata, adeguatamente, ha visto che è una cosa molto complicata e che il pensiero critico non è un elisir magico che può essere applicato a qualsiasi tematica. Il pensiero critico non è come andare in bicicletta, che quando io ho imparato ad andare con una bicicletta vado con tutti gli altri tipi di bicicletta, ma richiede una conoscenza pertinente del tema su cui viene applicato. Senza conoscenza non c'è pensiero critico. Quindi noi possiamo insegnare il pensiero critico soltanto, o quantomeno, riusciamo efficacemente a insegnare il pubblico soltanto se lo usiamo e lo applichiamo. Non è che è una questione teorica che poi uno, insomma, lo studente, insomma, si gioca in diversi ambiti. Vabbè, questo non ci interessa, questo neanche ci interessa, però, no, se questo fosse velocemente. Negli anni, ai primi anni del decennio scorso, un gruppo di epidemiologi clinici ha pensato di fare una prova, di mettere, diciamo, di testare un'ipotesi su come si può insegnare a dei bambini a fare scelte informate. Insomma, dato che gli adulti non le sanno fare ed è inutile cercare di insegnarli, proviamo a cominciare ai bambini. Non solo cominciare a cominciare ai bambini, andiamo in un posto dove il contesto è anche più difficile, Uganda. Quindi vanno in Uganda, costruiscono un fantastico trial clinico e questo è fantastico trial clinico diciamo ha queste caratteristiche, non ve lo descrivo, poi sta tutto su un articolo che sta su Lancet se volete guardarlo. Questo fantastico consiste nel fatto che questi fanno delle lezioni ai bambini, in queste lezioni gli insegnano a come diciamo affrontare le tesi, le teorie, quello che qualcuno sostiene in merito a qualche cosa, soprattutto stiamo parlando di cure, cioè stiamo parlando di argomenti relativi diciamo alla salute, come poi diciamo usare adeguatamente le prove e come poi tener conto di quello che si è capito dal punto di vista del proprio interesse, cioè se quello che andiamo a decidere può davvero basarsi su quello che abbiamo considerato, cioè se è pertinente con la nostra situazione. Insomma loro fanno tutto questo lavoro e il risultato è abbastanza impressionante perché il 60% di questi ragazzini che affrontano questi corsi riescono a efficacemente a capire che se qualcuno gli dice che un'erba ha curato tante persone per così tanto tempo e quindi questo deve voler dire che l'erba è efficace per curare una particolare malattia sanno come diciamo prendere di mira questo argomento con analizzare le prove di questo argomento e stiamo parlando di bambini delle scuole elementari e poi anche applicare questo tipo di ragionamento al loro caso. Queste esperienze sono fatte anche in Italia se volete vedere questo è anche scaricabile il libro delle decisioni sulla salute è venuta una delle diciamo questa cardiologa che si occupa diciamo di questa attività è venuta da noi al festival della medicina e ha descritto esattamente questa iniziativa quindi questo è un esempio di come si può provare a migliorare le capacità critiche su un argomento particolare in realtà quello che ci si dimentica è che noi da Piaget e Perry Piaget è stato lo psicologo cognitivo che forse qualcuno di voi sa chi è William Perry forse nessuno lo conosce ma è stato un insegnante di pedagogia Harvard University e le sue teorie per un po' di tempo andava per la maggiore hanno dimostrato che ci sono degli stadi di sviluppo cognitivo intellettuale etico eccetera e che quindi noi dobbiamo cercare di capire in quale tipo di quale tipo di capacità quale tipo di come dire di disposizione mentale hanno i bambini o i ragazzi a cui andiamo a insegnare per non andargli a insegnare delle cose che magari apprendono immediatamente ma poi dopo 4, 5, 8, 10 anni se le dimenticano così come Perry invece ha fatto vedere come lui faceva queste lavorava con questi studenti che arrivavano a Harvard da 17 anni magari da ambienti rurali e si trova di fronte persone assolutamente dogmatiche che pensavano in modo dualista per cui c'è la verità e c'è la falsità la verità la sa soltanto il professore quello che te la insegna tutto il resto quello che non dice il professore o che il professore dice che è sbagliato è sbagliato per definizione e piano piano per abbattere diciamo questo sistema questa visione e raggiungere diciamo una 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 visione intellettuale ed etica più articolata si doveva passare a quelli che lui ha descritto come 7 8 stadi adesso queste persone qua che venivano dalla profonda gli Stati Uniti non esistono più per il fatto che c'è internet eccetera queste cose lasciano il tempo che trovano però insomma era una condizione una condizione di base così come ci sono questi studi fatti da una psicopedagoga che è Diana Kuhn sullo sviluppo dell'epistemologia personale la quale ha fatto un lavoro immenso descrivendo lo sviluppo diciamo della metacognizione del pensiero critico cioè descrivendo quale attraverso quali fasi epistemologiche passano i ragazzi i bambini diciamo fino all'età di 18 e poi ai ragazzi per l'età di 18 20 anni come è caratterizzato questo stadio epistemologico per esempio lo stadio realista iniziale quello di 3-4 anni in cui le asserzioni che si pronunciano sono coppie che rappresentano la realtà esterna e la realtà esterna è direttamente conoscibile e la conoscenza viene come una fonte esterna ed è certa viene come come le fonti esterne ed è certa e non c'è pensiero critico il pensiero critico arriva soltanto in una fase molto più avanzata quando si supera la concezione assolutista multiplista o quantomeno relativista e si entra in uno stadio di tipo valutativo fino a questo stadio diciamo non c'è l'uso del pensiero critico e lei arriva le sue conclusioni sono attenzione perché qui a questo stadio in cui si riconosce che la realtà non è direttamente conoscibile che gli asserti sono giudizi che possono essere valutati e comparati secondo criteri diciamo argomentativi e basandosi sulle prove e che la conoscenza è generata dalla mente umana e quindi è incerta a questo stadio qui dice io ho trovato una percentuale bassissima di persone quindi non è facile arrivarci questo è l'ultima slide che vi propongo e ovviamente esiste anche una quantità di studi sempre abbastanza impressionante sullo sviluppo del pensiero scientifico un conto è il pensiero critico un altro conto ovviamente è il pensiero scientifico il pensiero scientifico ha bisogno del pensiero critico ma neanche non necessariamente insomma se uno è capace poi di muoversi adeguatamente e usare degli algoritmi nel suo lavoro però le ricerche in questi anni hanno dimostrato alcune cose primo che i bambini non sono scienziati in miniatura ma sempre di modo a dire che i bambini quando nascono sono curiosi sono i bambini sono delle spugne non sono scienziati in miniatura non è vero che gli adulti e la scuola li privano della loro curiosità innata la metacognizione è un elemento fondamentale cioè l'idea che si ha dell'origine della conoscenza cioè l'idea che io ho di come si produce la conoscenza e come io diciamo devo fare a controllarla è un elemento fondamentale per procedere verso il modo di pensare scientifico il pensiero scientifico non si sviluppa naturalmente nello sviluppo del pensiero scientifico sono importanti sia il contenuto della scienza in oggetto sia il processo per risolvere i problemi per indagare e usare le prove per rivedere una spiegazione l'identificazione dei fattori causali attraverso indagini e sperimentazione implica una serie di capacità per esempio l'uso delle variabili e delle misure che non si sviluppano fino a una fase avanzata del percorso scolastico solo dopo i nove anni i bambini usano coerentemente i test di controllo dell'ipotesi o imparano a usare coerentemente l'uso e l'uso delle prove a fronte di credenze precedenti e la capacità di tenere separate prove e teorie evolvono in modo complesso e completamente solo in adolescenza cioè i bambini o i ragazzi fino a una certa età di fronte a una prova che confute la loro credenza o la teoria negano la prova ma tengono la teoria e quindi questa capacità di separare psicologicamente separarsi psicologicamente dalle prove e non dare particolare diciamo importanza cioè e non dare emotivamente importanza alle prove è una conquista che richiede insomma di essere elaborata con il tempo tra l'altro noi sappiamo bene che esistono scienziati che non hanno mai cambiato la loro teoria nemmeno fronte di scienziati adulti che non hanno mai cambiato la loro teoria nemmeno fronte di montagne di prove diverse va bene io ho finito ma dopo tutto questa cosa qua penso che alla fine un messaggio come dire molto molto sintetico di tutta questa storia potrebbe ancora rimanere quello che troviamo in grandi speranze di 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 Dickens quando Mr. Yeagers dice a Pip che sta cercando di capire chi è la fonte insomma della sua provvisoria fortuna dice non prendere nulla per come appare prendi ogni cosa per come come prova insomma non c'è non c'è migliore non c'è migliore regola di questa grazie bene grazie mille Gilberto gli spunti della tua relazione sono stati veramente innumerevoli uno dei concetti fondamentali fra i tanti che è espresso e che è emerso chiaramente è proprio quello che se vogliamo contrastare il problema della pseudoscienza l'intervento che dobbiamo fare al di là di tanti dibattiti televisivi di tante discussioni che hanno sempre lasciato il tempo che trovavano è quello di intervenire sul processo educazionale nelle fasi in cui lo sviluppo mentale del bambino e dell'adolescente consente di poter instillare quei concetti di razionalità che sono fondamentali per poi affrontare in maniera razionale appunto le decisioni che la vita futura comporterà per ciascuno di noi la discussione è aperta se qualcuno vuole intervenire ovviamente penso che il professor Comerini sia felice di poter dare qualunque risposta ti do io un piccolo spunto iniziale fra le tante cose che hai detto mi è piaciuta molto quella sul pensiero critico quell'analisi che tu hai fatto del pensiero critico definendola una cosa molto complicata e in effetti è molto complicata perché così nell'opinione comune questa storia del pensiero critico viene sempre valutata come qualcosa di positivo tutti esercitando la critica pensano di fare qualcosa di utile qualcosa di intelligente e lo vediamo tutti i giorni nei vari dibattiti a cui ascoltiamo in televisione che leggiamo sui giornali sui media e così via sembra che tutti abbiano ipertrofizzato questo pensiero critico pensando appunto di fare qualcosa di positivo e di utile e invece poi a volte si precipita in circoli viziosi assolutamente inutili o dannosi tu hai sottolineato una cosa che spesso viene dimenticata il pensiero critico è sì utile ma richiede una conoscenza approfondita dell'argomento a cui si applica che è fondamentale è una cosa che sembra banale detta così però è quello che viene contraddetto da quello che vediamo quotidianamente in televisione chi esercita il pensiero critico non ha una conoscenza approfondita dell'argomento su cui appunto sta dibattendo è la cosa fondamentale che viene dimenticata ma l'abbiamo l'abbiamo visto come sai in abbondanza durante la pandemia insomma dove le persone che spesso non conoscevano l'argomento di cui si parlava invece pontificavano dai giornalisti a chiunque gli intellettuali eccetera pontificavano sostenendo insomma che una cosa funziona l'altra no quest'altra va bene quest'altra non va bene eccetera ma allora il fatto è che cioè per critico in genere per critico si tende di considerare come dire una 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 posizione che mette un atteggiamento che mette in discussione una determinata tesi o un determinato punto di vista ma critico originariamente insomma significa il concetto è quello del giudizio cioè il questo il concetto è quello di avere elementi per riuscire a valutare se una determinata affermazione o se appunto l'uso di una determinata prova sono pertinenti sono validi o pertinenti in un determinato contesto ma questo appunto è difficile farlo se non in termini molto generali cioè si può essere critici certo se qualcuno ti dice che fa un trial clinico che fa qualcosa con degli svarioni impressionanti ma se cominciamo a entrare nel merito a meno che tu non sia un epidemiologo clinico e tu non conosca molto bene le statistiche come fai a esercitare il pensiero critico appunto su su questi settori e quindi noi abbiamo avuto nelle scuole negli Stati Uniti c'è stato un periodo in cui si è parlato molto del pensiero critico tra i pedagoghi tutti dicevano che parlava del pensiero critico poi alla fine degli anni settanta primi anni ottanta ci fu quel famoso studio intitolato quel famoso report intitolato una nazione a rischio che fu pubblicato da una commissione messa in piedi da Reagan e che praticamente portò a un investimento ingente persino di soldi pubblici cosa che Reagan i soldi pubblici non li vedeva molto bene usati in quel contesto per cambiare e migliorare l'insegnamento degli Stati Uniti cioè sulla base di un'idea vaga di pensiero critico si era portato all'apprendimento scolastico a dei livelli molto bassi per cui poi si è tornato indietro ma appunto come ti dico questa rassegna di cui ti ho citato che merita di essere letta più di altre di altre analizza diversi fasi diversi modi in cui è stato usato il pensiero critico spesso da noi il pensiero critico è usato in modi abbastanza abbastanza vaghi appunto come se si trattasse come dicevo prima di imparare ad andare in bicicletta e poi in qualsiasi bicicletta ti trovi a usare va bene non è così se tu appunto non hai una precisa competenza di quella materia su quella materia il pensiero critico ti scordi di usarlo c'è poi anche un aspetto peggiore c'è poi anche un aspetto dicevo anche peggiore dell'uso del pensiero critico quando mi riferisco a trasmissioni televisive o meno quando viene utilizzato unicamente per spettacolarizzare certi certi argomenti è singolare io ho sempre sottolineato che siano gli stessi giornalisti o conduttori a guidare il dibattito sul coronavirus e a guidare il dibattito sulla guerra in Ucraina questo a testimonianza dell'expertise di questi conduttori però in questi dibattiti sono sempre gli stessi che conducono le domande le risposte e così via si tratti di Ucraina o di coronavirus è come i ragazzi quando mio figlio a una certa età mi criticava qualsiasi cosa dicessi e io gli ribattevo e gli dicevano ma io esercito pensiero critico visto che l'altra cosa che ti domandavo c'è una domanda prego allora io vorrei esercitare un pochino di pensiero critico e dire che sono d'accordo ma molto poco anche avendo un'enorme stima del professore che lo leggo con questa conferenza e voglio partire da lontano sottraendomi alle questioni relative a cosa succede in televisione che non ho da 35 anni quindi non ho più pari di idea e penso a Newton che sarà stato pure uno scienziato e una persona razionale colta e istruita e tutto lui non avendo più a disposizione la matematica che gli serviva per progredire nella fisica si dedicò per 20-30 anni all'alchimia considerando volgare la chimica che era all'inizio questo è quello che io leggo dagli storici della scienza io faccio l'architetto e quindi qual è il tema in questione la frustrazione la frustrazione lui diceva io vorrei andare avanti nella fisica anche Einstein dovete studiare matematica venne anche qui perché se no non ne veniva fuori lui la matematica che pure era un matematico quella che gli sarebbe servita non ce l'aveva e non la poteva mettere insieme ci sono voluti altri e quindi si è dedicata all'alchimia che noi considereremmo irrazionale eccetera eccetera la cura di Bella queste cose qua ora la mia tesi che mette in discussione tra virgolette la sua è che i cittadini del mondo vivono in una condizione di mostruosa frustrazione cioè che senso ha studiare la politica se tanto mi passa tutto sopra che senso ha studiare la razionalità la scienza che tanto non posso decidere niente che senso ha leggere le grenzi le scelte economiche tanto io sono condannato a guadagni e spendi quelle robe lì insomma cioè secondo me i problemi grossi sono dal fatto che le persone non hanno l'intuizione dell'utilità della razionalità e della formazione perché sotto sotto pensano che non serve che non la potranno usare non la potranno spendere qualcuno sì ma loro no ed è la condizione della maggior parte sì ma io ho anche un'esperienza mia nipote che aveva smesso di studiare medicina poi fortunatamente ripresa era frustrata l'idea ma tanto io non ce la farò c'è questa condizione di sfiducia generalizzata e diffusa ma per cui ci si ecco questa così tanto per introdurre l'argomento sì allora la frustrazione c'è da sempre intanto a me che Newton piuttosto che Pauli piuttosto che qualcun altro avessero una parte del loro cervello dedicato all'irrazionalità non me ne può importare niente a me quello che importa è che progredisca la scienza sono le teorie di Newton che poi hanno consentito di fare quello che si è fatto io gli scienziati li considero anche prima o poi muoiono li considero abbastanza irrilevanti nello scenario considero che quello che si salva sono le idee che valevano e che quindi vanno avanti e se poi appunto i coniugi curi avevano una questo è per dire che i miei argomenti erano solo per dire che come dire si può essere molto intelligenti e irrazionali ma a me interessa che sia molto intelligente e mi interessa soprattutto che dal punto di vista del funzionamento della società le persone molto intelligenti siano comunque prese anche con un granello di sale cioè con attenzione perché il fatto che siano molto intelligenti nella meccanica statistica non vuol mica dire che siano molto intelligenti sulla politica sul cambiamento climatico roba di questo genere quindi poi sulla teoria della frustrazione non lo so se vogliamo scrivere un sistema filosofico basato sul concetto di frustrazione lo possiamo anche fare però il problema è che se anche le persone individualmente saranno frustrate ci sono ci possono essere dei contesti in cui qualcuno è più frustrato di qualcun altro qualcuno non lo è se qualcuno che non lo è comincia a interagire con qualcun altro che non lo è si organizzano e producono qualche risultato magari portano dei prodotti che migliorano la società e che fanno star bene anche quelli che sono frustrati se adesso questo è molto più presente del passato questo non glielo saprei dire perché nel passato non c'ero però mi torno a dire a me quello che interessa capire è come procede come cresce la conoscenza scientifica come la conoscenza scientifica impatta sui comportamenti delle persone e poi i casi individuali anche se penso che gli individui siano le sole persone che contano però i casi individuali in questa visione cerco cerco di metterli da parte insomma perché non mi danno non mi fanno capire bene come procede il fenomeno premettendo che parlo da evoluzionista all'ennesima potenza e da uno che oltre a fare il biologo molecolare fa anche il medico l'anatomista ci conosciamo bene per chi non mi conosce noi abbiamo una grande fortuna e una grande sfortuna nel nostro cervello quello di avere una parte che si chiama formazione limbica che alcuni chiama l'obo limbico e per me sbagliano che è quella che ci porta ad essere persone istintive l'altra invece è quella che grazie all'evoluzione ci ha portato a determinare quelle che sono le nostre capacità reali ed effettive io faccio sempre ai miei studenti l'esempio Verniche e Broca se non si parlano Verniche e Broca che sono due aree del cervello molto evolute non si riesce a far nulla e a me la cosa che preoccupa è proprio questa che oggi nella scolarizzazione che la scuola italiana credo che sia andata in un declino totale e assoluto negli ultimi 40-50 anni io sono stato costretto a imparare intere 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 parti ho odiato i promessi sposi per questo però invece ho apprezzato tanto Catullo o Orazio proprio perché dovevo mandarne a memoria forse era una cosa sbagliata ma memoria minuitu misi eam exercias la scuola è andata giù il povero ragazzino di 5 no vado più avanti 7-8-10 anni che noi dovremmo spalizzare e fargli capire che cos'è la scienza dargli le basi per la scienza non solo la scuola non gliele dà ma c'è una cosa ancora più pericolosa che è questa perché il ragazzino di 7 anni che sa usare lo smartphone molto meglio di me apre e può vedere tutte quelle che sono le fake news che vengono fuori incontrollate perché io scienziato per pubblicare un dato debbo spendere tempo denaro e intelligenza ed essere passato sotto quello che è un sistema di peer review il che significa io dico una cosa bene viene controllata da parte su internet se io mi sveglio domani e voglio scrivere qualsiasi cosa premesso che non uso né whatsapp né facebook né altre cose del genere per un motivo semplicissimo sarò controllato ma preferisco non essere controllato possibilmente sapete ho una mentalità un po' strana ecco mi è quello che fa paura perché questi li porteremo ad essere scolarizzati nella maniera sbagliata come possiamo fare no non si può fare non si può fare assolutamente niente forse però facendo un po' di censura tra virgolette su quello che è il sistema che viene così usato liberamente probabilmente si potrebbe arrivare la stampa è censurata internet non è censurata io signori veramente sono preoccupatissimo da queste cose questa non è questione di libertà questa è questione di di follia bella e buona vorrei tornare a Marx nell'accezione più semplice del termine insomma comunque bisogna fare con quello con quello che si ha a disposizione e indietro non si torna è chiaro che appunto quando io facevo le elementari o le medie studiavo memoria e basta nozioni 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 migliaia di problemi di matematica di geometria fatti rifatti eccetera migliaia di coniugazioni dei verbi infatti le sbaglio poco le coniugazioni perché me le hanno fatte fare talmente mia di volte che ormai mi vengono in automatico però appunto da un certo momento in poi si è pensato che tra l'altro malgrado Piaget malgrado tanta gente che ha letto Piaget eccetera hanno cominciato a voler insegnare delle cose alle elementari che i ragazzi sì le possono anche acquisire che appunto sono delle spugne quindi non c'è nessun problema insomma farglielo capire ma dopo cinque anni se le sono completamente se lo sono completamente dimenticate e poi arrivano a una fase ricordo una volta un su un su un su un girono fisiologo o qualcosa del genere un noto fisiologo australiano che aveva cominciato il suo corso di fisiologia e dopo poco si rende conto che all'università dopo poco si rende conto che gli studenti non sapevano nulla di teorie dell'evoluzione lui prende e dice ok bene faccio tutto il corso impostato sotto l'evoluzione arriva alla fine dell'anno fa il test uguale quindi cioè è una è una bella sfida io penso che queste macchinette comunque sia loro questi ragazzi ci si adattano cioè siamo noi che con queste macchinette abbiamo dei problemi loro ah beh certo ah beh certo certo sì però lì attenzione che spesso sono più i genitori che i ragazzi e comunque questi sono sono aspetti insomma che si possono comunque non li puoi assolutamente affrontare quando un ragazzino è alle appunto alle elementari o alle medie ma già come ti dicevo prima se al liceo si insegnasse un po' di statistica per esempio quando uno dice il vaccino non è efficace beh insomma uno questi ragazzini cioè in Finlandia in Nuova Zelanda in Norvegia eccetera la statistica si insegna a 15 anni a 15 anni si fanno si comincia a offrire corsi di statistica che gli studenti quindi non è un caso se hanno risposto in quella maniera per il 70% e hanno capito cos'è un trial clinico e invece no e invece noi da noi no Gilberto c'è una domanda là in fondo c'è prima il presidente prima sì io non voglio fare una domanda anzi ho sentito la tua lezione splendida andrò a guardarla perché voglio imparare di più di quello che hai detto volevo soltanto fare un'osservazione sul termine critico anche qua occorre che noi lo usiamo correttamente il termine critico voglio dire io posso limitarmi a quello che dici tu Brun di dire la mia osservazione sulla tua è una critica è una critica non ha niente a che vedere col pensiero critico e la critica è legittima e quindi è legittimo che io esprimo un'opinione diversa dalla tua e tu mi stai a sentire nelle forme più educate possibili ma questo è pensiero critico penso di tradurre un po' in filosofia le cose che tu dicevi ma il pensiero critico è una parte del metodo una parte straordinaria del metodo ci vuol dire è quello che mette in discussione il dogmatismo o perlomeno ciò che è diventato dogmatico assoluto a suo modo però il pensiero critico non può diventare dogma quindi c'è un problema per questo nella storia del pensiero si susseguono le opere che ho scritto critica del giudizio critica della critica critica eccetera eccetera cioè dire nel momento in cui divento un critico io mi assumo una responsabilità di dire che quella verità creduta come tale a lungo non è così non è vera e di dire però che io ho gli elementi non solo per dirlo ma per tentare un'altra strada faccio un esempio molto molto semplice c'è un signore che a un certo punto si è inventato una logica del punto di vista cioè a dire se io salgo su una torre e guardo una città a seconda dell'altezza dalla quale la guardo la città mi appare diversa sì mi appare diversa ma soltanto che io devo misurare dal punto di vista geometrico e matematico le diversità e quindi io ho criticato una posizione che avevo affermato quando era al primo piano quando sono arrivato al terzo piano mi rendo conto che la mia osservazione del primo piano è nettamente modificata pensiero critico vuol dire questo vuol dire capire che tu in questo momento hai la possibilità di correggere te stesso ma allora la statistica ma anche ma anche il calcolo delle probabilità cioè anche ma il valore della probabilità anche perché quando eserciti uno spirito critico dovrai renderti conto che se arrivi oltre tu hai delle verità che la scienza ti dice ma sono verità probabili e sono verità che dopo domani potrebbero non essere più nemmeno vere se la probabilità dei casi che risolvi se il numero dei casi che risolvi sono meno di quelli che la scienza ti propone lo spirito critico è un esistito importante ti dico perché perché letto in questi termini rappresenta uno dei cardini fondamentali del pensiero scientifico anche filosofico volendo ma di quello scientifico non volevo fare una domanda volevo solo riaffermare la differenza tra atteggiamento critico legittimità della critica e invece il pensiero critico ecco questo era mi ha fatto perdere tempo ma sono un vecchio illuminista colprenato c'è una domanda grazie professore per l'infinità di spunti che ci ha dato io ho una brevissima osservazione su quello che ha detto Luigi Bolondi sulla sui conduttori che passano indifferentemente da un tema all'altro e quello è un diciamo è perché qui si ritiene che l'ignoranza sia un segno di imparzialità che l'esperto sia automaticamente schierato e questo credo che sia un tema su cui riflettere invece mi ha interessato molto il fatto che lei ha spiegato un po' la logica attraverso cui si formano gli schemi mentali e anche diciamo così gli schemi socioculturali della pseudoscienza e tutti noi però abbiamo avuto anche esperienza a livello interpersonale perché tutti abbiamo amici amici anche colti colleghi con posizioni pseudoscientifiche tutti noi abbiamo ex amici perché magari sono rotti i rapporti in questo periodo di covid e la difficoltà di argomentare con loro la parola argomentare è uscita spesso nella mia impressione qui chiedo anche un conforto è dovuta spesso al fatto che pur ammettendo che esistono diverse logiche attraverso le quali costruire argomentazioni più o meno più o meno stringenti dal punto di vista matematico altro però diciamo sono tutte qualcosa in comune ce l'hanno per esempio il principio di non contraddizione mentre nelle argomentazioni pseudoscientifiche basta guardare in internet si trovano gomito a gomito affermazioni tra di loro contraddittorie e sembra che queste non smuovano minimamente il livello di credibilità o di affidabilità che le persone affidano a queste e questo io l'ho visto anche a livello proprio interpersonale nelle discussioni con le persone il tema invece forse più importante non vorrei rubare tempo agli altri è il tema della scuola che mi sembra sia quello che sta anche dietro a quest'idea dell'Accademia delle Scienze mi sono sentito chiamato in causa da quello che ha detto perché io ho collaborato alla scrittura delle indicazioni per i licei prima e delle indicazioni nazionali per scuola primaria e secondaria in seguito posso dire tranquilli io non mi sono occupato di scienza ma della parte di matematica e di fisica ma che non c'era assolutamente nessuno tra le persone dei gruppi di lavoro che credesse che l'educazione scientifica passasse attraverso il sparare a un ragazzino di dieci anni e una specie di uovo all'occhio di bue con 47 indicazioni che dovevano spiegargli come era fatta una cellula e questa quest'idea anche forse si è cercata di trasmettere il punto è che la scuola soprattutto una scuola italiana con le sue dimensioni è è un enorme organismo complesso forse complicato caotico nel senso del linguaggio naturale prima ancora che della teoria dei sistemi gelatinoso a distanza di diversi anni dall'introduzione delle nuove indicazioni per i licei alcune indagini fatte hanno mostrato che gli insegnanti che avevano letto la parte della loro disciplina era meno del 10% e gli insegnanti che sapevano che esistevano erano meno della metà e quindi è abbastanza difficile pensare forse questa è la vera sfida come si può realizzare un compito educativo una missione educativa in questa direzione visto la complessità della scuola che dovrebbe essere il primo agente educativo ha citato anche l'invalsi potrei proiettare i dati invalsi sulle domande di statistica e veramente sono deprimenti ma quello che è più deprimente è che è difficile arrivare a proporre delle domande perché in sede di pretesto non superano quella soglia minima di risposte che danno un minimo di validità e quindi è veramente difficile e questo nelle indicazioni sono almeno 10 anni che si parla di statistica e si parla di statistica non dicendo bisogna imparare a memoria alcune definizioni o cos'è un campione eccetera si parla di statistica come capacità di leggere per esempio un dato quindi credo che la sfida sia effettivamente educativa ma che sia una sfida estremamente complessa ecco che non esistono soluzioni semplici credo che da questo punto di vista l'impegno anche di organismi prestigiosi come l'Accademia o altri sia molto importante non ho nulla da aggiungere un commento spero breve io non sono uno psicologo meno che a me non sono uno psicologo quello che trovo gravissimo in questo periodo è questa percezione che per altri è già stata espressa in forme diverse da altri che questa percezione che qualunque conoscenza di tipo scientifico di tipo complesso sia immediatamente disponibile immediatamente disponibile e questo non si applica soltanto alle fake news ma si applica o chi costruisce ma si applica anche ai miei colleghi diciamo scienziati diciamo ricercatori nel senso che lo sforzo esasperato diciamo di arrivare ad una divulgazione l'abbiamo visto anche e questo spiega forse secondo me alcune delle cattive figure fatte diciamo durante la discussione della pandemia di arrivare ad una divulgazione di concetti complessi finisce poi per essere veramente negativa nel senso che l'attitudine a semplificare cose complicate e che richiedono anni di studio ai nostri studenti ai miei studenti anni di studio di fatica di sedere sulla sedia sostanzialmente o di mani in laboratorio diventino proprietà diciamo capacità di qualcuno in pochi minuti o con una lettura diciamo di quattro pagine questo è uno degli elementi che sono distruttivi sostanzialmente e in cui andrebbe richiamata la diciamo in un certo senso serietà della comunità scientifica e questo poi si propaga anche verso le scuole se ti capita di andare a diciamo interagire con una classe la prima cosa che ti chiedo nel mio campo è cioè spiegaci i buchi neri dico ma scusate voi il percorso attraverso cui Newton è arrivato non dico tanto conoscete la formula della gravitazione universale di Newton ma il percorso attraverso cui Newton è arrivato alla gravitazione universale lo conoscete l'avete spiegato ai vostri studenti come si fa diciamo a saltare diciamo no due secoli di sviluppo diciamo no della eh diciamo della conoscenza e del percorso diciamo no che ha portato con tutti i suoi limiti poi dopo diciamo a quel tipo di risultato per arrivare subito alla cosa del tipo giornalistico è enormemente complicata che uno studente ordinario capisce di una di fisica o di astrofisica capisce dopo cinque sei anni di studio universitario in una maniera appropriata c'è quindi questo sforzo incredibile per aggraziarsi le autorità la NASA da questo punto di vista è diciamo capolinea no scusate è capofila è capofila per aggraziarsi le autorità di rendere facile quello diciamo che invece è difficile e non può essere reso facile senza alterarlo proprio a questo punto diventa tutto uguale e va bene anche il terapiatismo insomma tanto per fare diciamo un altro esempio profitto di avere i microfoni in mano per ricordare che diciamo Newton alla fine del seicento si trovava in una condizione di conoscenza della chimica molto diversa da ciò che noi chiamiamo chimica alla fine del settecento di Lavoisier diciamo i soci si può anche ricordare a proposito del pensiero critico che Newton ha fatto delle cose importantissime in ottica ma ha sbagliato completamente il concetto generale diciamo che noi abbiamo poi dopo che la scienza poi ha sviluppato e diciamo alcune cose non hanno lasciato traccia altre hanno lasciato una traccia fondamentale altre hanno lasciato diciamo degli elementi fondamentali ma che non erano poi dopo nel filone principale dello sviluppo tutto questo può essere capito e conosciuto soltanto se uno sta col sedere sulla sedia ore e ore e ore per degli anni e si impadronisce di questo diversamente è tutta diciamo una presa in giro diciamocelo pure in cui tutto diventa uguale è un quindi un commento non è una che credo rafforzi alcuni punti di vista certo se non ci sono altre domande neanche dall'aula virtuale perché vi ricordo che avevamo molti colleghi collegati virtualmente lascio l'ultima parola a Gilberto per un saluto se hai un ultimo commento non è particolare dei commenti da fare intanto vi ringrazio ancora per l'ospitalità penso che dobbiamo come dire un po' insomma ci stiamo lamentando di come di come alcune cose insomma stanno evolvendo però temo che sia nell'ordine delle cose che si vada sia verso una semplificazione che si vada verso l'incapacità di affrontare certe emergenze di carattere educativo eccetera perché comunque manca anche una mancano delle visioni poi alla fine insomma se si fosse se si fosse qualcuno anche a livello politico o in qualche contesto che si rende conto anche in alcuni contesti diciamo pure come come le accademie insomma questa accademia lo sta facendo insomma ma però anche l'accademia dei lincei ha fatto qualche cosa però tutto avviene in modi sparsi non c'è una una tentativo di convergere e e di trovare degli approcci coerenti quello che mi colpisce e finisco qua quello che mi colpisce sempre al di là di tanti difetti che hanno magari la Gran Bretagna gli Stati Uniti a tutta una serie di altri paesi quando è che quando mettono mano al problema dell'istruzione lo fanno con una certa serietà cioè nel senso che quando noi abbiamo fatto l'ultima riforma dei programmi scolastici è stata messa su una commissione più o meno amici dei politici organizzata così eccetera poi devo dire che il preambolo a quella riforma parlo a questo punto della riforma Moratti poi io mi sono un po' disinteressato devo dire che il preambolo a quella riforma se fosse stato portato dal mio professore di filosofia e della scienza l'avrebbe cacciato immediatamente non avrebbe neanche superato l'esame quello che l'ha scritto però insomma è andata così e quindi le cose sono state fatte in un certo modo in Gran Bretagna si creano delle commissioni di esperti di gente che non viene selezionata politicamente ma che entra sulla base di selezioni diciamo basate sul loro merito e delle loro competenze si vanno delle audizioni pubbliche che si pubblicano dei documenti a cui i cittadini i stakeholder eccetera rispondono poi c'è una rielaborazione eccetera negli Stati Uniti si fanno modi diversi la National Science Foundation mette in piedi un ambaradà che non finisce più analisi numeri eccetera consideriamo che la National Science Foundation pubblica tutti gli anni una relazione che è un piacere leggerla adesso è quasi sempre uguale quindi un po' di meno ma che è un piacere leggerla sul quadro generale dell'insegnamento della scienza di come si fa la scienza la percezione della scienza di queste cose qua in Italia di queste cose qua si trova nulla insomma nulla ma anche in Svezia alcune di queste cose si fanno quindi è evidente che c'è un disinteresse probabilmente non è un caso che noi siamo arrivati largamente dopo a fare il liceo scientifico con Gentile una ventina d'anni dopo il liceo moderno era quasi più interessante del liceo scientifico e che comunque dunque ancora mi ricordo ancora leggevo qualche tempo fa che nel nel 67-68 se ci si laurea se si si diplomava liceo scientifico non si poteva fare giurisprudenza non ci si poteva scrivere a materie di tipo letterario o a giurisprudenza il che io tra me e me mi sono spiegato perché i politici che vengono quasi tutti da giurisprudenza poi alla fine non avevano fatto studi di carattere scientifico quindi c'era questa come dire atteggiamento verso la scienza che ne so Ruberti ma mi ricordo tanti i primi ministri dell'università e della ricerca che raccontavano della difficoltà che avevano a discutere della scienza e del ruolo della scienza in alcuni contesti di tipo di tipo parlamentare poi io penso che però il problema non sia solo la scienza il problema è in generale diciamo come formare degli studenti delle persone che secondo me si possono formare anche con anche su altri piani insomma si può insegnare la grammatica il latino la filologia si possono insegnare tante cose ma il problema diciamo è impostare questi insegnamenti in maniera tale da portarli a ragionare criticamente cosa che attualmente in Italia si tende a non fare grazie 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 a tutti voi che siete intervenuti grazie al rettore merito professor Roversi Monaco che era qua presente al presidente professor Tega a tutti coloro che ci hanno seguito virtualmente grazie grazie a essere venuto grazie grazie a tutti